Al via i lavori di restauro e miglioramento sismico del Bastione Sant'Anna nel cuore del centro storico di Mondolfo, uno dei borghi più belli d'Italia. Si tratta di un intervento di 280 mila euro che prevede la messa in sicurezza, l'indagine storico-archeologica e il recupero dell'Androne. Duplice l'obiettivo del progetto voluto dalla Giunta Barbieri, da una parte la ricostruzione degli elementi architettonici crollati, dall'altra il recupero degli spazi interni al Bastione che diventeranno sede di eventi culturali ed espositivi a servizio della collettività. Particolarmente suggestivo sarà il recupero dell'accesso su via Genga, rimasto chiuso negli anni, che permetterà di collegarsi direttamente con il giardino martignano. Importante è anche il restauro dell'apparato murario dei locali delle cisterne, mentre l'intervento alla fortificazione riporterà alla luce le originarie infrastrutture destinate alla raccolta e distribuzione delle acque piovane, con l'ipotesi, se ben conservate, di visitarle. Uno scrigno prezioso nel cuore di Mondolfo, il cui recupero servirà anche ad avviare uno studio delle caratteristiche con cui il bastione venne progettato, ricordando come Francesco di Giorgio Martini, che aveva già operato alle mura castellane, sia considerato fra i padri del sistema fortificatorio. I lavori dovrebbero concludersi nella prima metà del 2021. Nel frattempo proseguono altri due cantieri, l'ampliamento del cimitero comunale e l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media Enrico Fermi, un intervento di circa 2 milioni di euro.